La Regione Toscana e l'Associazione di Volontariato Gruppo Chirurgia d'Urgenza GCU Pisa Onlus hanno siglato un protocollo per adeguare alle nuove normative europee il posto medico avanzato allestito dall'Associazione in occasione di disastri e calamità naturali. Presenti l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, alla protezione civile Federica Fratoni e la presidente dell'Associazione Augusta Nepi. Il GCU, creato da alcuni medici e infermieri dell'azienda ospedaliere universitaria pisana, da anni partecipa a missioni di protezione civile in Italia e all'estero e fa parte della colonna mobile toscana. Investiamo ancora e di nuovo sul gruppo per la medicina d'urgenza negli eventi di protezione civile e lo adeguiamo alle nuove normative di carattere europeo che sono indispensabili per poter continuare a far parte, a consentire al gruppo della medicina d'urgenza, di far parte della colonna mobile della protezione civile e di intervenire con la competenza dei medici, del personale volontario che fa parte dell'Associazione proprio del gruppo dei medici della medicina d'urgenza di Pisa e di intervenire nei grandi disastri al margine delle zone dove l'evento si è verificato. Il protocollo firmato in regione prevede che l'attuale struttura di posto medico avanzato con chirurgia sia adeguata a team di emergenza medica di secondo livello che possa ospitare in degenza 20 pazienti per 14 giorni. Prima non c'era prevista una degenza, la nostra struttura funzionava facendo interventi salva vita e poi il paziente veniva trasferito agli ospedali più vicini. L'ONU ha chiesto di aggiungere una degenza in modo sempre in tempi relativamente brevi però di avere la possibilità di assistere i pazienti in attesa di una evacuazione in zone più sicure. La presidente Augusta Nepi ha ricordato tra le missioni umanitarie e di protezione civile a cui l'Associazione GCU ha partecipato quelle in Iran, Sri Lanka, Haiti e Nepal.